buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv vi prego di iscrivervi ai nostri canali partendo dal canale youtube e anche ramble e odyssey e vi prego di sostenere il nostro lavoro noi andiamo avanti soltanto grazie alla vostra collaborazione e sostegno che potete darci facilmente dalla pagina web www.casadelsole.tv barra sostienici abbonandovi o mandandoci un contributo una tantum e continuando a restare insieme a noi oggi parliamo della fine di un'era e lo facciamo con il nostro amico scrittore e filosofo michele putrino buonasera michele buonasera a te jeff e michele e quando è che iniziano le nuove ere perché andando a occhio un'era è iniziata con la scoperta dell'america e quella contemporanea è iniziata con la presa della bastiglia ma parliamo di ere storiche recenti in cui l'occidente si è espanso fuori da se stesso e con occidente intendiamo il vecchio continente soprattutto ci sarebbe da chiedersi se modernità ed egemonia dell'occidente stesso sono viaggiano insieme il dato storico è che prima abbiamo evangelizzato e civilizzato gli altri che abbiamo chiamato barbari che è un po' l'equivalente dell'esportare la democrazia poi dopo aver goduto delle rapine fatte al mondo dei barbari adesso ci troviamo al tramonto di un'era rimanendo però un po' in sospeso fra un passato che non passa perché l'occidente si è sempre rifiutato di fare i conti con se stesso e un futuro che per ora sembra essere stabilito da fuori da altri in che era stiamo entrando secondo te e l'uomo continuerà a farsi manipolare e ammaestrare come ha fatto finora michele allora guarda jeff secondo me dobbiamo iniziare con il distinguere tra ere ed epoche ok perché normalmente sono due cose che le persone due parole che le persone comunemente utilizzano in maniera come sinonimi no in realtà non è così l'era è qualcosa che dura per tanto tempo per millenni per un'ideologia con un'ideologia diciamo così che domina dei qualche millennio ecco mettiamolo in questo modo mentre un'epoca sono periodi più brevi con cambiamenti storici all'interno di questa era ora noi possiamo distinguere nei tempi relativamente recenti diciamo così tra due ere l'era classica quella cosiddetta greco romana che si basava su una ideologia sbagliata visione del mondo è come chiamola così di una visione del mondo che quella che è passata la storia come visione pagana anche se li sappiamo è un abuso di questa parola però utilizziamola giusto perché per capirci e in cosa consisteva questa visione del mondo dell'uomo che prende come punto di riferimento la natura questo era il concetto di fondo nell'era classica quindi cercava di in un certo senso di riavvicinarsi alla natura se andate a guardare i famosi riti pagani era non era altro che un tentativo no di far rientrare l'uomo anche se da un punto di vista simbolico verso la natura quindi anche i comportamenti si avvicinavano a quelli della natura pensate tanto per fare un esempio ai romani che mettevano per esempio la pelle del lupo del leone no su su il portabandiera o così via ma anche i riti tradizionali i simboli era tutto un tentativo di ritornare alla natura ecco questa diciamo era un po' la visione pagana e di conseguenza prendevano come punto di riferimento del per la legge anche sociale le leggi della natura quindi da lì nasceva anche il discorso di accettare la gerarchia la la forza fisica il coraggio fisico e così via no e quindi non c'era quel discorso morale di 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 indicare come qualcosa di negativo anche il dominio perché loro lo percepivano come qualcosa che appartiene come nell'ordine della natura e quindi uno lo accettava e e così via e c'era un codice ovviamente d'onore che derivava da questa visione della natura in sintesi si osservavano di nuovo le leggi della natura venivano applicate all'uomo alla società umana questa era la cosiddetta era pagliana e così era per i romani per i greci per i vichinghi e per i popoli che cercavano questa visione successivamente si è presentata una nuova era c'è stato un cambiamento di visione del mondo totale che quella che l'era che è passata la storia come l'era cristiana e qui cambiano le cose il mondo cambia completamente visione del mondo in senso proprio opposto dal che dall'avvicinarsi alla natura al prendere come punto di riferimento la natura a allontanarsi dalla natura a vedere il mondo come il regno sappiamo no il regno del demonio il regno di satana anzi qualcosa che più ti allontani dalla natura e e meglio è quindi nasce il concetto dell'astrazione dell'ideologia ecco perché prima e come si tagliavano gli alberi perché perché nel paganesimo si adoravano gli alberi e la chiesa alla chiesa questo non non piaceva esatto anche per esempio anche i romani greci quando tagliavano gli alberi lo facevano con dei riti c'era tutto un rito c'era un cercare di rispettare comunque la natura perché ovviamente c'era una divinità lì che che regnava e così via stessa cosa con i fiumi e così via al contrario invece col regno cristiano perdonatemi con l'era cristiana diventa invece la natura diventa qualcosa soltanto da sfruttare e di porre al servizio dell'uomo tant'è vero che proprio anche nella bibbia c'è scritto proprio che l'uomo regnerà sulla natura e che animali alberi qualsiasi aspetto della natura e al servizio dell'uomo ora questa è la fonte principale della nuova era in cui abbiamo vissuto fino all'altro giorno perché la natura diventa un oggetto l'uomo più si stacca dalla natura diventa si ribalta la situazione più si stacca dalla natura più è elevato pensate a tutta quella quella ossessione che c'è stata fino a ieri per ad esempio non so l'apparire un intellettuale no quindi astratto quindi sai tutti i titoloni noi professoroni eccetera veniva vista come una cosa magnifica anzi più se eri così e più sei un individuo elevato più sei intellettuale astratto è meglio hai studiato le arti libere quindi sei e quindi più ti stacchi dalla natura no più venivi percepito ma questo fino a ieri l'abbiamo visto in alcuni casi succede ancora oggi no su su questa da questo punto di vista mentre una volta veniva al contrario più eri fisico più eri uomo fisico no che come che vivevi con col corpo e meglio era per esempio i romani ecco apprezzavano solo i filosofi diciamo così il romano medio e nel senso classico il filosofo stoico o al più cinico perché era quello che non era filosofo come lo intendiamo noi ecco nel senso di quello astratto infatti come sai a me non piace questa definizione nel senso moderno del termine ma era uno che invece cercava di vivere la vita reale pratica secondo natura come dicevano gli stoici appunto no poi invece tutto questo è cambiato tutto è diventato sempre più astratto anzi più vivevi nell'astratto e meglio è più sei le accademie pensiamo alle accademie no le scuole accademiche le università la matematica l'astrazione cioè più vivevi nel mondo astratto e più venivi alloggiato questa è stata l'era l'era del cristianesimo ecco perché io ogni volta spingo molto come sai anche greci però spingevano ad astrarre e a cercare e a darsi risposte soprattutto no non nel senso come lo intendiamo noi cioè loro lo facevano sempre per reintegrarsi di nuovo con la natura i numeri per esempio visti dalla scuola di pitagora ad esempio era perché cercavano di leggere il linguaggio della natura anche se poi lì inizia quella fase che poi porterà all'era cristiana perché ovvio che i germi erano già presenti dal mio punto di vista c'era il problema nasce soprattutto con platone anche se pure platone non è che lo faceva solo per rastrarsi dalla natura fino a se stessa no cercava di capire cercava però lui inizia a dire quello e non c'è tanto da dire su questo dice che il corpo è tomba e che siamo qui per scontare la sofferenza no e lo dice in maniera esplicita platone eppure tutto il discorso del mito di r è chiaro non tutto qual è la visione però ancora ancora è all'interno diciamo del mondo greco inizia c'è iniziano a vedersi eccole le 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 radici che poi porteranno no a questa nuova era perché ovvio che così che a sua volta derivano dalla scuola di pitagora con i numeri astratti eccetera che a sua volta erano di origine di questo di questo movimento cultura e religioso che si chiamava orfismo quindi che addirittura avevano proprio questa percezione che erano qui per soffrire però qual è la differenza jeff che queste erano delle radici che non è perché al contrario di quello che pensiamo noi non dominavano la cultura greca e nemmeno quella romana infatti le scuole famose nel mondo antico non erano né quelle a platonica né quella aristotelica e parlo anche compreso l'impero romano ma erano quelle pratiche erano quelle quella stoica da una parte al più quelle epicurea quelle un po più diffuse quindi filosofie pratiche che avevano a che fare con il corpo queste filosofie hanno preso poi piega forte nella vita quotidiana delle persone proprio con l'era cristiana che inizia verso la fine dell'impero romano come vediamo è tutto segue tutta una logica è normale che non sappiamo bene la storia non viene a non avviene a blocchi no c'è un colpo di botto e si cambia c'è sempre un qualcosa all'inizio io per esempio anche nei miei libri cerco di dare molta importanza alla nascita delle grandi città perché più è grande una città più ti stacca dalla natura ovviamente quindi più sei portato a cercare un risposte in cose astratte anche se poi ci sono dei momenti e degli eventi simbolici come che cambiano le cose a scoperta dell'america o quelle lì però se tu poi perché dicevo prima jeff differenza tra era e epoca perché l'era è quella che poi detta la visione del mondo mentre prima eravamo nella visione del mondo che ti spingeva a vivere secondo natura o quanto ti spingeva appunto la termine giusto no cercava di portarti a vivere secondo natura poi ci riuscivi o no era un altro discorso ma quella era la visione quindi la ciclicità comunque la condizione ti dettava di farlo perché non potevi fare granché d'altro esatto anche la ciclicità del tempo no il tempo ciclico perché perché tu vivevi in armonia con la natura vedevi la ciclicità del tempo è ovvio non avevi questa visione del tempo e del mondo con la nascita invece dell'era cristiana ok del cristianesimo da non confondere con il solo messaggio diciamo evangelico eccetera il discorso è molto più complesso e io cerco di sintetizzare diciamo che chiamiamo era cristiana questa visione dell'astratto ok questa visione di vivere in cose astratti in ideologie a quel punto tutto la il tempo diventa lineare perché se tu vivi nella visione astratta jeff è ovvio che cerchi sempre una soluzione nel futuro è sempre quel futuro no che tu devi cercare di inseguire di raggiungere ecco anche la quella che i teologi chiamano escatologia cioè la visione della salvezza nel futuro lineare no e fateci caso è esattamente l'era in cui abbiamo vissuto negli ultimi millenni da lì siamo arrivati poi alle varie epoche di vari salti no quindi prima c'è questa salvezza nell'aldilà la prima parte del medioevo seconda parte inizia poi a svilupparsi tutta la parte che poi porterà alla scienza quindi quando comincia a venire meno la speranza della salvezza nell'aldilà si cerca una salvezza sempre nel futuro perché la forma mentis è quella ma nell'aldiquà quindi il futuro della scienza della tecnica ecco dove poi arriva anche il cercare di fare nuove scoperte come dicevi tu di cristoforo colombo superare no i limiti andare oltre sia territoriali sia e conquistare nuovi territori ma non era più un concetto di conquista semplice secondo natura come veniva inteso fino all'impero romano qui si tratta proprio di espanderti tu ti devi espandere perché la natura il concetto è scatologico devi devi espanderti verso il futuro allargarti sempre più sempre più sempre più sempre più perché la salvezza nel futuro e da qui arriviamo a quel concetto geopolitico che noi vediamo oggi degli imperi come vengono intesi oggi non come secondo l'impero romano se voi adesso magari facciamo anche cerchiamo anche un po di chiarire questa differenza che è enorme a Bissar ma anche questa rincorsa verso lo spazio vedi dobbiamo per forza andare oltre oltre è una necessità il progressismo dobbiamo per forza cambiare i valori le leggi la visione del mondo e l'espansione territoriale degli imperi della scienza di tutta questa roba qui se tu vedi se ci fai caso è sempre quella filosofia di fondo che è nata con questa era qua ecco l'era cristiana il punto qual è che tutto questo funziona jeff fino a quando c'è quest'ideologia di fondo che alimenta questa visione è qua che possiamo dire in maniera un po scherzosa casca l'asino perché fino a quando c'è tutto un movimento culturale forte e spirituale religioso che alimenta questa visione allora tu poi la passi nella vita quotidiana nel mondo del lavoro e così via anche se ti dichiari ateo attenzione anche se ti dichiari ateo perché se tu ti dichiari ateo ma tu vivi in questa visione del mondo in cui anzi in questa società alimentata in maniera così forte da questa visione del mondo dove la salvezza è verso il futuro dove è giusto che tu ti devi espandere in qualsiasi modo territoriale intellettuale e così via ebbene anche se ti dichiari ateo tu vivi in questa società che ti spinge a fare questo quindi spinge a gareggiare comunque a cercare di migliorare in qualche modo di trovare sta salvezza nel futuro ok quindi il concetto pure della pensione mi salverò per sempre quando lavorerò lascerò le cose in eredità vivremo in pace per sempre pensa il concetto della gente che dice cavolo siamo nel 2023 ci sono ancora le guerre perché che ti spinge è la natura umana che fa che fa le guerre e la natura in generale che porta alle guerre non è che è arrivata la pace no era pure quell'illusione di fukushima ti ricordi quella che diceva la fine della storia perché è tutto dettato da questa visione no della salvezza nel futuro quindi siamo nel 2023 ragionano queste persone siamo nel futuro non è possibile che ci siano ancora cose del passato come vedi è questo meccanismo mentale che è di questa era dell'era in cui abbiamo vissuto fino a oggi dell'era cristiana era non epoca epoche come abbiamo detto sono e adesso sta finendo l'era cristiana e ecco il punto è questo che adesso siamo agli sgoccioli sta finendo perché perché innanzitutto è crollato e da lì la geniale frase di inizio dio è morto indicava proprio questo di è morto in che senso che prima dio era vivo no negli animi e nei cuori delle persone di tutti pensiamo ai nostri nonni no tutti avevano dentro questa visione anche chi appunto si dichiarava maiare anarchico eccetera i tutti avevano questa visione era scontato quantomeno nella maggior parte delle persone e stiamo parlando di persone che abbiamo conosciuto noi quindi dei nostri nonni e cosa è successo invece adesso che questa visione è crollata è crollata perché nice da genio da grande genio quale era aveva già visto il crollo di del dio cristiano nel cuore degli uomini e poi nei fatti è avvenuto pensata come guardate la chiesa cristiana come si è ridotta no spazzata via totalmente dalla storia in sostanza regge è un fantasma ma lo vediamo tutti no e questa è la chiesa cristiana ma verrà un poco tutte le chiese di di vario infatti anche il protestantesimo è nella stessa identica situazione perché dimentichiamo sempre di di dire questo è sicuramente è sorte io sono sicuro che toccherà pure a tutte queste altre religioni diciamo del libro mettiamola così ok questa è la fase principale perché quella che è avvenuto prima no quella questa cattolica è quella più antica e quindi un processo di decadenza matematica diciamo strutturale mettiamola in questo modo però vedi jeff è crollata l'istituzione perché crollata perché è sparito dal cuore delle persone quella quel bisogno quella quella quel dio dentro il colore delle persone o se vuoi viceversa loro non sono stati più in grado di alimentare nel cuore delle persone questa visione ed è sparito non cambia insomma ognuno può vederla un po come vuole ma si può asserire che nella chiesa per come la conosciamo anche nella storia un granché di religioso e di divino era difficile trovarlo perché sono andati avanti facendo guerra e termini hanno sterminato interi popoli con la attenzione jeff io non mi riferisco a quello che poi facevano loro effettivamente no era quella quella visione che riuscivano ad alimentare ecco poi è ovvio che lì insomma è un altro discorso però per per identificare un'era e quello che accade in un'era dobbiamo vedere l'anima di quest'era diciamo così ed era quella nei fatti era quella è inutile girarci intorno oggi non c'è più ed è sparita nell'arco di pochi decenni c'è crollata di colpo se noi andiamo a prendere dei ragazzi di 15 20 anni ma anche 25 30 non esiste proprio questa visione non hanno nemmeno il concetto del futuro perché di solito dicono le persone dicono ah vedi questi giovani di oggi sai le solite frasi no non hanno nemmeno prospettiva per fare qualcosa certo che non hanno prospettiva per fare qualcosa perché è sparita quella visione quel mondo è finito e loro lo sentono e infatti non sentono il futuro perché non c'è più quella visione scatologica di salvezza nel futuro io sono sempre molto interessato vado proprio con tanta curiosità a guardare ciò che ascoltano i ragazzi molto giovani oggi no sai la musica trappo ma anche tutto questo genere di musica perché qualcuno dico e le persone dicono hai del pelo sullo stomaco quindi perché dicono sai ascoltano immondizia ed è immondizia però bisogna chiedersi perché perché ascoltano questa roba è quella la domanda che le persone non fanno a nemmeno a loro stessi no mentre invece è molto interessante perché se tu vuoi ascoltare quei testi cioè è di distruzione totale nichilismo puro il nulla assoluto l'assoluta mancanza di speranza e di tutto è esattamente quello che descriveva Nietzsche l'era del nichilismo e questo ti fa capire proprio in maniera non chiara di più senza ombra di dubbio che l'era di nichilista è giunta e l'era nichilista e jeff sempre l'era tra la fine di un'era e l'inizio dell'altra e il vuoto il nulla no perché quel passaggio tra il momento del passaggio c'è un vuoto è normale perché deve ancora nascere quella quella nuova questa cosa qui però noi lo vediamo questo crollo dell'era jeff noi lo vediamo nell'attualità pensa all'impero americano ad esempio noi vediamo in estrema difficoltà perché in estrema difficoltà perché non hanno più quello spirito quella vena no della salvezza nel futuro quello che ecco della fine della storia sta roba qua era il sogno americano noi ci espanderemo tantissimo poi andremo nello spazio e poi creeremo l'impero spaziale no pensate star trek i film di fantascienza americani questa era partito dai pellegrini veramente poi però un po degenerato però erano perché portavano la bandiera di questa visione della salvezza del futuro della dell'era loro hanno portato all'apice questa visione della ed è normale che sia così se vai a guardare il processo storico no prima l'espansione del cristianesimo ed era cristianizziamo tutti poi dobbiamo portare anche il nelle terre straniere poi della tecnologia e alla fine arriviamo all'impero americano processo se andate a guardare la storia e cercate di leggere tutto il processo storico attraverso questa visione scatologica diventa chiarissimo chiarissimo è impeccabile come ragionamento ovviamente non è una cosa che ho fatto io da zero e ci sono fior fiori di studiosi no che ormai siamo in un passaggio fatto di un di un metanichilismo che è quello che vediamo però stiamo entrando comunque in una in una nuova era ma in che era perché alcuni parlano per esempio del l'epoca o dell'era parlano di transumanesimo forse essendo morto dio forse adesso si sta entrando in questo meccanismo piuttosto poco no no il transumanesimo jeff rientra sempre in quel processo lì scatologico in realtà è semplicemente e pari pari al costruire l'impero galattico per dire capito cioè se tu segui quel processo tu per continuare ad andare avanti per portare avanti questa era è ovvio che il meccanismo mentale che a te viene di conquistare marte poi dopo quindi il transumanesimo devi superare il corpo devi evolverti è la proiezione di questa era nel prossimo futuro il problema qual è che l'intelligenza artificiale portata all'estremo e così via il problema qual è è che in realtà questa è se tu segui questa linea temporale è dove dovresti andare no per continuare questa epoca il problema è che tutti il problema problema per chi segue questa visione ovviamente è che siamo in realtà gli sgoccioli cioè questo sistema questa era non ha più la forza per fare quello e lo vediamo nel quotidiano lo vediamo quello che sta accadendo nell'attualità oggi la forza l'impero americano non ha più che era l'impero che rappresentava questa visione no lo vediamo che in estrema difficoltà sta perdendo forza giorno dopo giorno quello che sta succedendo adesso che anche cercano di dimostrare dimostrare i muscoli no sia quello che sta succedendo diciamo nell'est Europa sia quello che sta succedendo medio oriente eccetera eccetera senza scendere nei dettagli ma è palese che gli americani cercano di dimostrare che ancora hanno forza no è un po come il vecchio che non ce la fa più che è stato un grande sportivo un uomo tutto muscoloso e adesso cerca di dimostrare ancora che ha i muscoli che ha la forza che attenzione sono i momenti pure più pericolosi perché poi l'orgoglio ti può portare a fare i gesti estremi come è successo mi viene un dubbio michele lo esprimo subito non è che però stiamo sempre all'interno della nostra visione che è un po autocentrica perché analizziamo presente futuro il passato sempre sulla base di ciò che noi abbiamo fatto e quindi da partire dai grefi della cristiana ma c'è un resto del mondo che sembra che stia emergendo e che tutto sommato almeno da quello che si vede e che si che si riesce a capire sapere hanno loro ce l'hanno è come una visione anche di un dio e anche religiosa e e per sconnessa jeff dalla da quello che fanno poi nella pratica e questo è il problema io immagino tu pensiamo per esempio facciamo un esempio pensiamo al alla cina che l'esempio classico anche la russia anche l'india facciamo un esempio ancora più piccolo il giappone pensiamo al giappone il giappone perché forse l'esempio più semplice no perché poi ovviamente se andiamo a toccare cina russia diventa un discorso più complesso non tanto da portare avanti ma magari da spiegare alle persone implica altre altre situazioni il ragionamento è lo stesso però rischiamo poi di cadere magari in fraintendimenti ed è una cosa che voglio evitare facciamo l'esempio del giappone il giappone è una nazione che se tu vai a parlare dal punto di vista spirituale da un certo punto di vista anzi da molti punti di vista sono rimasti proprio tradizionali addirittura lo scintoismo che è il paganesimo erano nei fatti sono molto religiosi sono molto e oppure buddismo zen e così via tu però nei fatti poi nella vita lavorativa quotidiana e nell'impostazione statale sociale vivono da c'è portano avanti i principi escatologici occidentali lavori con la tecnica e devi costruire di più devi produrre di più devi organizzare meglio sempre di più sempre di più c'è hanno a livello individuale mettiamo così di anima personale mantenuta diciamo alcuni la versione la versione tradizionale ma a livello sociale hanno preso proprio mani e piedi la visione occidentale quella escatologica la stessa cosa lo vediamo in cina la stessa cosa in russia perché lo vediamo lo stesso tipo di processo in india e infatti in questi popoli però a parte la russia vabbè che ha una storia tutta particolare come sappiamo molto legata in realtà è europa occidente poi c'è quella tendenza un po a volersi distinguere vabbè è un discorso sappiamo che la russia un po complessa da da trattare però storicamente parte dell'europa diciamo certo io sono come dire straconvinto che proprio occidente c'è nel senso che deve dovrebbe essere considerata proprio totalmente nel questo processo anche scatologico però mettiamo anche lì da parte perché non voglio cadere in frente di essere frainteso ecco più più che altro questo però restiamo ecco anche l'esempio della cina la cina ha preso totalmente l'approccio occidentale lo vediamo la tecnica le fabbriche il costruire la voler andare sulla luna e così via restando sempre con l'esempio del giappone fino all'ottocento un po anche soltanto chi ha visto non solo ultimo samurai film lì si vede questo processo fino ad un certo punto hanno resistito hanno mantenuto i valori tradizionali e infatti non hanno costruito tutta quella roba di tecnica e tecnologia quando hanno deciso di accettare questa visione del mondo occidentale beh vediamo il giappone a che punto è arrivato stessa cosa è avvenuto in cina ecco questo per dire che in apparenza ma se noi andiamo a guardare soltanto le religioni dominanti che non è solo l'era cristiana che finisce ma è proprio l'era l'era cristiana in senso a 360 gradi cioè senso lato sì perché ormai è diventata globale il globalismo questa visione della tecnica della tecnologia del meccanicismo diciamo così è l'evoluzione delle scatologie quindi no della salvezza sulla tecnica e sulla materia questo è il problema con le leggere e questo è anche il motivo per cui piccola parentesi se ci fate caso in oriente non hanno mai o quasi mai costruito qualcosa di innovativo di propria iniziativa hanno sempre copiato migliorato non c'è questo detto famoso ma mai fatto di propria iniziativa perché perché non hanno quella cultura escatologica quindi semplicemente si la imitano cioè la rifanno propria la portano all'eccellenza come sappiamo ma non è nella loro cultura questa visione escatologica da noi sì infatti come vedi è questa la visione il problema qual è è che essendo che siamo gli sgoccioli quando crollerà e crollerà l'impero americano la cultura occidentale ed è già crollata in realtà Jeff quando Nietzsche ha detto di è morta è già morta sta cosa dentro di noi ancora c'è l'inerzia c'era l'illusione ma basta guardare le nuove generazioni basta vedere come sta reagendo come stanno reagendo gli americani alle situazioni del mondo si vede che hanno perso forza si vede che sta morendo questa era anche a livello proprio pratico anche quell'inerzia inizia a perdere forza e questa cosa trascinerà dietro tutto e tutti diventerà inevitabile questo il problema è come se si spegnerà semplicemente oppure di solito come succede con chi si trova con le spalle al muro e io temo stia venendo più questo si reagisce con la forza e da qui secondo me si riesce anche a capire perché tutti si stanno armando stanno si sta alzando parecchio la tensione nel mondo come vedi no perché ad un certo punto tu perdi quella forza un po da una parte trovi il coraggio di reagire come avresti voluto dall'altra senti questa mancanza di forza e quindi tipicamente come succede purtroppo alla fine delle si rischia veramente un qualcosa di grave speriamo dare anche un messaggio di speranza michele ma l'essere umano e te la farà sopravviverà perché io credo che comunque sì è possibile che succeda quello che tu stavi dicendo molto possibile lo si sta vedendo però poi c'è la speranza che nasca qualcosa di nuovo comunque guarda sarà ancora l'essere umano o la vita prenderà altre forme secondo te ma secondo me ancora ci sarà poi come non lo sappiamo non lo possiamo sapere no c'è questo però che la vita continua in genere dovrebbe essere così altrimenti non avrebbe veramente nessun senso no il tutto però dovrebbe continuare un pochino anche da noi forse però guarda giaffitti dico una cosa la fine l'inizio come si vedeva per esempio come si vedevano le radici della nuova era durante l'imper e durante il periodo greco romano quindi della vecchia era del mondo greco romano della vecchia era si vedono le radici della nuova oggi secondo me ha uno sguardo attento e si nota questo tornare ad avvicinarsi alla natura da parte delle persone di tutti è anche il io ho visto manager che si avvicinano a che tentano di fare piccole coltivazioni di propria iniziativa magari fanno vivono nei grattacieli eccetera però cercano la pianta anche questa sai questa ossessione pure per il green che poi la ricerca delle radici sia anche in quella narrativa allucinante che ovviamente viene sfruttata sappiamo come anche però di fondo cosa c'è c'è questa ricerca della natura no anche le le persone che fanno molte cercano appena possibile di scappare dalle città e andare a fare anche escursioni di l'agriturismo e così via cose che io non sono anni che non ho vissuto però mi dicevano negli anni 60 70 80 erano impensabili cioè tutti volevano vivere nella città abbastanza il contrario salvo piccolissime minoranze chi viveva in campagna veniva disprezzato come bifolco no si vede un po nei film ancora quelli vecchi vecchi eccetera in realtà oggi avviene il contrario chi vive in città invidia chi vive nei paesi in campagna quindi secondo me da qui si vede la nascita nelle radici ancora magari primi prime foglie insomma prima prima piccola pianta che compare così però mi sembra chiaro che la nuova era sarà quella cioè sarà un riavvicinarsi un rivivere in armonia con la natura come questo poi avverrà di preciso non lo possiamo sapere però mi sembra chiaro che quella è la direzione quindi come dire come possiamo dire che scusate possiamo dire che la prossima volta magari parliamo di come vorremmo che la nuova era o se di come vorremmo modellarla sì io credo che guarda alla fine la gente tornerà da quando tu accetti poi la natura come come avevano fatto appunto gli antichi poi accetti pure morte dolore sofferenza perché la visione scatologica della salvezza verso il futuro ti porta a disprezzare queste cose non vuoi soffrire non vuoi morire e così via da lì l'ossessione per il transumanesimo il buonismo la cultura walk parlare di morte dolore non se ne vuole nemmeno la cultura walk cos'è il terrore anche per la mezza parola che ti può ferire internamente e se vedi è dovuto a questa ideologia no della salvezza verso il futuro ecco quando tu ritorni alla natura accetti di nuovo la sofferenza anche lo scontro fisico anche però rimani vivo dentro e questa è la differenza secondo me ecco questa sarà la nuova era da quello che vedo allora rimaniamo umani e rimaniamo vivi anche grazie michele ci diamo appuntamento alla prossima volta grazie di aver partecipato grazie a presto grazie a voi per aver seguito e sostenete sostenete il nostro lavoro per permetterci di continuare e lo fate facilmente dalla nostra pagina web lo potete fare facilmente www punto casa del sole punto tv barra sostienici abbonandovi o con un contributo volontario una tantum e lo potete fare come lo state facendo partecipando insieme a noi alle nostre attività grazie e arrivederci alla prossima volta